Musica Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati anche quest'oggi con noi. Siamo in diretta anche con i nostri ospiti qui presenti in studio e ci fa il piacere quindi di avere qui con noi prima le signore la dottoressa Elena Lici, esperta, consulente di supporto emotivo ben arrivata qui con noi e poi abbiamo invece il vicepresidente nonché coordinatore dell'associazione Valentina Penello Onlus, ben arrivato anche a lei Buongiorno a tutti per raccontarci il ruolo fondamentale che ha questa associazione senza scopo di lucro, quindi un no profit, un onlus per aiutare le persone e anche i familiari delle persone che sono giunte a un livello terminale di patologia oncologica oppure sono arrivate a uno stadio tale per cui è necessario un supporto di diverso genere che non sia solo quello in ambito medico c'è tutto il risvolto emotivo, c'è il risvolto psicologico c'è il risvolto di vita vissuta che viene compromesso e quindi le persone esterne che intervengono che lo fanno con cognizione di causa, con la preparazione adeguata possono veramente contribuire in modo importante purtroppo tutto questo non è istituzionalizzato viene fatto come sempre dal volontariato che è fondamentale però quando si parla di volontariato qualificato e preparato la mano è veramente importante è importante anche sapere che esistono delle persone che si occupano di questo perché tante volte quando si precipita nel baratro di patologie gravissime e a volte senza alcuna speranza non si ha neanche la lucidità di capire che cosa c'è attorno che ci potrebbe dare una mano eppure c'è chi ci aiuta questa associazione si occupa di assistenza sociale socio-sanitaria assistenza sanitaria in senso tecnico ricerca scientifica, prevenzione e formazione allora c'è anche un hospice se non sbaglio no, collaboriamo con un hospice con tutti gli hospice in realtà ma abbiamo un rapporto diretto con Casa Santa Chiara che è uno degli hospice della città di Padova perfetto, allora questa associazione nasce quando? recente abbastanza il tempo vola per cui recente relativo nasce 11 anni fa 10 anni e mezzo fa quando è mancata questa nostra amica Valentina a cui è dedicata, lo dice anche il nome quindi proprio il giorno diciamo che l'abbiamo accompagnata per l'ultima volta insieme col marito che è il presidente dell'associazione abbiamo proposto a amici conoscenti e sostenitori di dar vita a un'organizzazione che in memoria di Valentina si occupasse proprio di questi servizi di assistenza supporto a chi affronta queste malattie gravi terminali oncologiche in primis ma non solo e per fornire proprio un servizio concreto soprattutto a domicilio perché spesso è a casa che i drammi di queste malattie esplodono e quindi abbiamo visto dall'esperienza di Valentina come fosse utile e importante offrire questo tipo di contributo e quindi da 11 anni siamo a disposizione appunto di situazioni di questo tipo con uno staff di professionisti operatori del campo sanitario che insieme ovviamente dove cerchiamo di collaborare con le istituzioni ci mancherebbe altro però spesso purtroppo ci sono dei vuoti delle difficoltà e la nostra associazione cerca di portare un aiuto concreto proprio dentro casa con prestazioni socio-sanitarie di altro tipo come abbiamo appena detto quindi nasce da un fatto di vita vissuta poi come si è creata come sono creati gli aggregati di più persone con competenze poi ci racconterà anche magari l'esperienza la dottoressa cioè come avviene questo di come nasce un'associazione perché magari tanti anche si chiedono questa fase iniziale che è fondamentale poi anche per aderire per fare il volontario per dare un aiuto un contributo so che avete anche tra l'altro una possibilità di fare delle donazioni certo beh allora l'associazione è una forma tecnico-giuridica molto semplice in realtà c'è un iter di costituzione che fortunatamente ripeto non è così impegnativo però bisogna conoscere bene la materia perché se no si rischia magari di creare una realtà che non è adatta io nella mia vita professionale mi occupo proprio di questo quindi è risultato facile da questo punto di vista creare questo tipo di organizzazione abbiamo avuto anche la fortuna di avere fin dall'inizio un nucleo di persone anche diciamo così sensibili, preparate e competenti su questo campo quindi siamo partiti diciamo già con una certa base di riferimento a cui abbiamo attinto poi negli anni abbiamo aggregato fortunatamente delle figure professionali molto preparate molto capaci sono venute a collaborare con noi dei professionisti medici infermieri operatori esperti di varie materie appunto sempre nel campo sanitario e non solo che hanno messo le loro competenze a disposizione quindi coinvolgendo personale sempre più qualificato sì esattamente sempre in ambito oncologico non solo in ambito oncologico noi siamo specializzati su quello che si chiama fine vita e cure palliative siamo anche rappresentanti della federazione italiana cure palliative che è una rete di organizzazioni come la nostra che in tutta Italia si occupano proprio di questo tipo di ambito e di materia quindi anche attingendo alla rete a queste organizzazioni collaborative diciamo si riesce ad avere competenze formazioni e capacità di essere efficaci proprio su questo campo perché ripeto dietro c'è appunto la possibilità di attingere ad esperti che si occupano esattamente di questo ambito oncologico ovviamente ma non solo ci occupiamo anche di tante altre patologie purtroppo sempre molto gravi invalidanti che creano del grande disagio nelle famiglie cure palliative che già il termine fa vabbè rabbrivi dire no servono anche per attenuare le formazioni del dolore sostanzialmente e molte volte sono fondamentali indispensabili per alleviare il più possibile una situazione che magari perdura nel tempo come vengono attivate allora le cure palliative sono un grande come dire una grande un grande strumento che è messo a disposizione proprio degli ammalati e dei loro familiari perché le cure palliative si prendono a cuore e a cura non solo dell'ammalato ma di tutto il contesto che gli sta intorno è una presa in carico proprio della situazione globale e le cure palliative non sono solo prestazione sanitaria ma sono guarda caso supporto appunto legato a tutti gli aspetti anche proprio di relazione anche pratici amministrativi supporto emotivo come spiegherà la dottoressa fra poco e le cure palliative in Italia sono un'eccellenza dal punto di vista normativo abbiamo una legge straordinaria la numero 38 del 2010 che è stata addirittura copiata da altri paesi europei il problema poi come spesso succede è l'attuazione la messa in pratica quindi è un diritto acquisito per i cittadini utenti del nostro paese dove però la realtà concreta è una non piena attuazione perché mancano figure professionali solo da quest'anno avremo la partenza della prima specializzazione universitaria per medico palliativista tanto per dirne una ecco le cure palliative intervengono proprio con la terapia del dolore per alleviare da tutti i punti di vista possibili accompagnare l'ammalato e i familiari in questo percorso di difficoltà che una malattia di questo tipo purtroppo porta avanti insomma ma vengono date perché una persona dice io come faccio ad essere a conoscenza che magari nel mio territorio che magari è quello di Belluno anziché un'altra città del Veneto voi siete Padova nello specifico magari con tentativi di espansione però no no ci occupiamo di Padova perché abbiamo associazioni simili alle nostre presenti fortunatamente nei territori limitrofi per ogni per ogni azienda sanitaria c'è al minimo un'associazione e il Veneto è molto ricco da questo punto di vista esatto però come si fa? come si fa? allora le cure palliative intanto sono erogate e messe a disposizione dalla struttura sanitaria locale che dovrebbe avere sempre una rete di cure palliative si chiama così nuclei di cure palliative che sono staff preparati predisposti per essere messi a disposizione e quindi nello specifico medici e palliativisti infermieri palliativisti operatori sociosanitari psicologi e compagnia bella tutti preparati però non ci sono ad oggi sufficienti risorse sia umane che tecnico organizzative per rispondere al bisogno l'organizzazione modella sanità stima un fa bisogno di cure palliative per la popolazione totale nel mondo di 1,5% degli abitanti quindi pensate alla popolazione della provincia di Padova US 6 un milione di abitanti quindi circa 10.000 15.000 persone hanno bisogno di cure palliative se andiamo a vedere i numeri e c'è un rapporto annuale che il Parlamento esamina perché questa legge lo prevede purtroppo non si raggiungono questi risultati perché le risorse sono ancora insufficienti quindi anche le nostre associazioni la nostra e altre cercano di dare una mano perché c'è un vuoto purtroppo che speriamo di colmare nei prossimi anni concretamente cosa fate perché alcuni pensano alcune palliative farmaci che vengono somministrate ad un certo tipo per attenuare magari il dolore e poi la dottoressa ci spiegherà bene però un po' per capire tutto l'ambito d'azione perché prima che stavamo chiacchierando fuori onda dicevo anche che sembra una stupidaggine il trasporto del paziente per sgravare la famiglia il caregiver che si voglia da un'assistenza che magari diventa anche emotivamente provante ci racconti un po' sì allora noi fondamentalmente veniamo chiamati proprio dalle famiglie dai familiari dagli ammalati a volte dagli ammalati stessi che vanno alla ricerca proprio di una risposta a questi bisogni di assistenza che si trovano ad affrontare nel loro percorso ripeto manca l'informazione perché uno dovrebbe avere già dal medico di medicina generale medico di famiglia già l'indicazione che sei in una certa situazione può essere attivato il supporto delle cure palliative forse non un elenco di associazioni cioè un libricino già il medico di famiglia dovrebbe dare queste indicazioni il distretto sanitario dovrebbe dare e fornire questo tipo di risposta però come diceva lei spesso manca proprio l'informazione base esistono le cure palliative che cosa sono chi le eroga noi quando veniamo in qualche modo chiamati da queste situazioni la prima cosa che facciamo è dare informazioni perché ci sono anche dei diritti già automatici diciamo così a disposizione che non vengono soddisfatti perché non si sa ecco o si sa poco diritti che vengono da che cosa? dalla legge stessa è la stessa legge del 2010 che ha legge nazionale abbiamo anche le leggi regionali e abbiamo un sistema organizzativo che dovrebbe attivarsi di volta in volta quindi noi intanto diamo l'informazione e invitiamo la famiglia a chiedere quanto dovrebbe avere come risposta e ottenere ciò che gli serve facciamo un esempio spesso questi ammalati sono allettati stanno a letto quasi sempre in questi casi sappiamo che bisogna evitare che succedano come dire dei problemi particolari per esempio con le piaghe da decubito quindi ad esempio il materasso anti decubito o il letto attrezzato è il primo strumento naturale da richiedere e ottenere e c'è il diritto di fare la richiesta e avere gratis anche questi che si chiamano presidi sanitari e la richiesta a chi? al distretto sanitario certo all'ULS attraverso il medico e all distretto sanitario però fare la domanda e non farla e la consegna spesso passa del tempo quindi noi per esempio anche noi andiamo a consegnare di nostra possibilità questi ausili presidi sanitari e forniamo noi in anticipo materasso pallo per la flebo carrozzina sedia comoda cose di questo tipo però le famiglie devono sapere che possono avere questi strumenti devono fare un iter che va attivato dal medico che va attivato dal medico dal medico questo è importantissimo per questo che date per scontro il medico di famiglia se sei a casa il medico di famiglia è il tuo interlocutore naturale e globale perché il medico di famiglia ha la responsabilità di seguirti e supportarti questa è l'organizzazione che abbiamo se il medico non fa certe cose purtroppo non si attivano perché finché siamo in struttura ospedaliera sanitaria ospedale di comunità è un discorso quando siamo a casa torniamo come dire nelle mani del medico di famiglia che ci deve accompagnare in tutto quello che serve nel senso che poi non è che faccia tutto lui ma deve attivare a sua volta dei supporti già previsti ecco noi facciamo un lavoro di informazione ma anche poi di intervento perché spesso e volentieri c'è da mettere l'usiltà nelle mani proprio nelle certe prestazioni sanitarie ma anche nell'igiene nell'alimentare nel lavare vestire fare appunto medicazioni e non sempre purtroppo il servizio pubblico riesce a fare tutto e sempre quindi l'associazione di comunità nostra danno una mano in questo senso benissimo allora questo è il primo step andiamo in pubblicità voi se volete interagire potete naturalmente farlo con messaggi o con chiamate poi parliamo anche con la dottoressa tra poco grazie a tutti